Ancora vestito da lavoro, ora tardissima, questo video lo guarderanno i miei parenti, che ne ho pochi tra l'altro, però non c'è problema, quando mi parte la voglia di fare video li devo fare, allora un attimo perché chiudiamo la finestra per il semplice fatto che c'è troppo macello che stanno pulendo le strade, eccoci qua, allora questo è un video dove ho l'esigenza, sento l'esigenza di sfogarmi perché mi sono rotto i coglioni, allora è da anni che non arriviamo a questi traguardi specialmente in Europa, dovremmo stare tutti uniti e invece uno apre i social che sono diventate una spazzatura perché ormai per quanto riguarda i tifosi interisti su YouTube io mi vergogno, io mi vergogno perché allora esprimere un dissenso o esprimere comunque la propria opinione poi cosa provoca? Provoca una reazione spropositata, è successo a me quando io ho dissi a un certo personaggio che non menziono perché guarda i video se non li da vedere e non devo esprimere il mio giudizio perché è abbastanza oggettivo quindi non c'è bisogno, guardate la mia faccia già capite tutto però è successa la stessa cosa a Marco, sì il Marco che lavora in televisione e non lo voglio difendere per l'amore di lui perché non c'è niente da difendere, però lui, io non penso che il termine saltrone sia un termine talmente offensivo da poi andare a fare risposte con barre da morte o minacce su minacce su contro minacce, siamo arrivati a questo, è questo qua un video molto simile era quello che feci io con l'altro personaggio quando gli dissi parlate di calcio, parlate di calcio volete rispondere allo sfottò? rispondete allo sfottò ma lasciate stare le frasi dei film che trattano gli argomenti completamente al di fuori dal calcio per piacere perché noi qua siamo interisti ma non era un periodo come questo, questo è un periodo dove secondo me bisognerebbe solo parlare dell'Inter nel nostro piccolo trasmettere la vicinanza ai ragazzi, trasmettere l'entusiasmo ai ragazzi che soprattutto in Europa stanno facendo un cammino veramente incredibile e invece quello che traspare da YouTube sono gli interessi personali rivolti esclusivamente alle visualizzazioni prima di tutto, l'Inter in secondo piano poi non contento dopo che ho visto un video contro Marco Barzaghi da quel signore come si chiama nonno che ha filtri, non ha filtri a me non mi frega niente che abbia filtri, non ha filtri a me è una cosa però del nonno mi dà molto fastidio a me è una cosa che mi dà veramente molto fastidio cioè tu hai un canale dell'Inter, esordisci con il logo del Napoli ci vuole rispetto per il Napoli, sta passando in secondo piano lo sculetto del Napoli ah perché un'Italia che annovera nelle semifinali europee praticamente in ogni semifinale c'è una squadra, è normale che chi vince lo scudetto viene messo in secondo piano, ricordiamoci lo scudetto di Trappottoni da anni che l'Inter non vinceva lo scudetto, quell'anno il Milan vince la Champions League e la Coppa dei Campioni si chiamava, è normale che il nostro scudetto che per noi ha un valore enorme, una cavalcata trionfale, lo scudetto dei record però un po' con la Coppa dei Campioni lì insomma ha tolto un po' di risalto e guarda qua i ragazzi, guardate, si vedono, guarda qua i ragazzi di quello scudetto Cassi come la ricordo quel giorno, quella lì era la foto di Inter-Napoli 2-1, gol di Careca e poi Matteus e Berti se non erro e punizione ribattuta tra l'altro di Matteus, io ho chiuso gli occhi la seconda volta e abbiamo segnato e ero allo stadio quella stagione le viste tutte, tutte, tutte per me l'Inter è di più di una squadra di calcio quindi cioè, non lo so, insultate, fate gli interisti e poi cioè, cosa fate di tutto per accappararvi i tifosi del Napoli accettate tutti i tifosi sul vostro canale ognuno è libero di fare quello che vuole però, non lo so, io vivo l'Inter in un altro modo e mi sono veramente rotto le palle cioè, di vedere tra interisti queste cose qua cioè, copertine con le barre da morto vergognatevi, vergognatevi vi dovete vergognare, punto vergognatevi io non me ne fotto un cazzo fammi tutti i video di sin che vuoi che a me, guarda, non me ne frega minaccia pure me, che non me ne frega un cazzo non me ne frega un cazzo minaccia mandami i nipoti secondo me, uno che fa i video con le barre da morto si deve vergognare punto, fine stop forza Inter